Sulla proposta per salvare la clinica Luccioni, la maggioranza si spacca. Pittella scappa dall'aula e la democrazia vince. Forse la rivoluzione sta davvero iniziando. Così il capogruppo di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia, Gianni Rosa, commenta l'approvazione della proposta di legge sull'adeguamento delle strutture sanitarie. Di fronte alla possibilità di concedere alla famosa clinica potentina una possibilità per sventare la chiusura, afferma Rosa, il PD si divide. Pittella è contrario e il suo neoalleato Santarsiero con una manciata di dissidenti a favore. Dunque cosa si fa? Si scappa per non affrontare la prima debacle ufficiale. Pittella sente la necessità di abbandonare l'aula nella prima volta in cui la sua maggioranza inizia a dimostrare di non essere ai suoi ordini, afferma ancora Rosa, sottolineando che la legge è passata solo grazie al voto favorevole della minoranza. La finta rivoluzione pittelliana perde miseramente vinta dalla democrazia del Consiglio regionale che dopo quasi 24 mesi riesce finalmente a trionfare sull'autoritarismo e la dittatura del gladiatore.